Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Elisa Fucsas, regista e scrittrice, buonasera Maria Giovanna Gatti Luini, senologa, psicoterapeuta e scrittrice, buonasera Marianna Aprile, giornalista di oggi, buonasera Pino Corrias, giornalista e scrittore. Allora dopo la tregua estiva torna la paura del virus, lo sapevamo, ma stavolta sembriamo forse meno preparati e anche più provati psicologicamente. Allora questa condizione quanto influisce sulle decisioni del governo? Subito dopo la pubblicità. Musica Dottoressa Gatti Luini, è arrivata la seconda ondata del virus e quindi anche la seconda ondata di paura. L'esperienza della prima ci ha rafforzati o indeboliti? Ci ha insegnato alcune cose materiali e ci ha insegnato, spero, come proteggerci un po' di più. A livello medico ha insegnato anche una migliore cura per i casi che richiedano terapie. Però indubbiamente dal punto di vista emotivo non è un buon momento e non è bene che ritorni la paura perché siamo stanchi, siamo anche un po' smarriti perché la pausa estiva in realtà non è stata seguita da una ripresa come avremmo sperato. Ci troviamo di nuovo a confrontarci con una profonda incertezza e anche a confrontarci con alcuni casi in più rispetto al passato che ci fanno pensare che il virus sia ritornato un po' come prima. Un po' come prima, Pino Corria. Se tu vedi gli italiani più pronti stavolta ad affrontare la seconda ondata? Francamente sì, guarda, io ho avuto questa sensazione e cioè che quest'estate progressivamente si è diffusa era una voglia collettiva che questa vicenda andasse a terminare e tutti, io ho visto progressivamente, tutti noi abbiamo visto le spiagge che tornavano a riempirsi e così via, le discoteche, quello è stato credo uno dei punti più allarmanti di tutta l'estate perché è stato credo un cluster. Dopodiché è successo che con queste moltitudini che si sono mischiate e poi i ragazzi che sono tornati a casa con il virus nello zaino e lì noi che ci aspettavamo che appunto, come diceva la dottoressa, che un po' l'emergenza stesse finendo e ci preparavamo a quell'altra emergenza che ancora ci interroga, diciamo, che è quella economica, un po' ci ha preso alla sprovvista. Detto questo, io in questi giorni sono andato e tornato da Milano a Roma, però ho visto molta disciplina nelle stazioni ferroviarie, nei ristoranti, la gente per strada, sono due giorni che io giro per strada, la gente porta la mascherina, siccome non è un'impresa improbabile o così difficile come qualche giornale racconta, la gente porta la mascherina, ci stanno spiegando da dieci mesi che la mascherina è importante per non... E quindi la gente lo fa. Che questo è quello che dobbiamo fare, o no, senza smettere di lamentarsi sarebbe più utile per tutti. Elisa Fuxa, sarebbe più utile per tutti smettere di lamentarsi. Lei, durante il lockdown, ha vissuto delle settimane molto complicate, no? Perché ha scoperto di avere un cancro alla tiroide, ha deciso di farci un docufilm con il suo iPhone che è stato portato anche al Festival di Venezia. Che cosa si impara dalla paura? Abbiamo dimenticato anche una terza malattia che è anche un tumore della mia migliore amica che era a Milano e non riusciva neanche lei a capire di che malattia stesse morendo. Poi per fortuna sta guarendo, però lì per lì. Cosa si impara dalla paura? Io penso che tutte le cose che capitano dopo una paura sono degli errori. Nel senso che quando io uso come motore la paura, sbaglio sempre. Quindi per me, in questo caso, usare il mio cellulare per raccontarmi, farmi compagnia, perché io sono diventata la mia attrice e ho fatto un film senza sapere di fare un film, perché il 90% di quel materiale erano dei filmati, registrazioni anzi, li chiamerei, che mandavo alla mia famiglia che era in campagna, in lockdown, chiusa. Poi nessuno poteva venire a trovare, stare in un ospedale in quelle settimane era proprio drammatico. Quindi ero sola e io sono diventata un'attrice, quindi una figura che mi era accanto. Quindi io ho usato questa paura per trasformarmi in questo caso. E per fortuna, ricordiamolo, è riuscita anche a curarsi, quindi insomma sta bene. Che è una cosa, è la cosa più importante. Mariana Aprile, il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto che rischiamo di portare il dibattito politico a un confronto tra chi ha paura e chi no. I negazionisti sono tra noi pochi, da quello che capiamo, cercano anche di manifestare. Tu pensi che rischiamo di avere questi due partiti che si confrontano? Noi politicizziamo tutto, politicizziamo le partite di calcio del campionato, figuriamoci una cosa del genere. Quindi non stupisce che ci siano fazioni riconoscibili che si contendono il tema della paura in un verso e in un altro. Temo però che si contendano la paura sbagliata. Perché se da una parte con la paura del virus nudo e crudo abbiamo in qualche misura imparato a fare i conti, sia in chiave di sottovalutazione, sia in chiave di consapevolezza. Però è diventata una presenza quotidiana, sono otto mesi che abbiamo a che fare con questo pensiero quotidiano. Quindi il virus in sé in qualche modo abbiamo imparato a maneggiarlo. Bene o male non importa, ma lo maneggiamo. Credo che in questa fase sarebbe forse più utile politicizzare un altro tipo di paura. Cioè la paura delle cose che l'emergenza Covid sta facendo emergere. Le disuguaglianze, le disparità, le inefficienze, le cose da decidere per arginare una deriva e l'impatto economico e produttivo della pandemia e non solo. Io credo che in questa fase ci faccia più paura quello che non il virus. Il che è anche pericoloso per certi versi. Però rilevo una maggiore sottovalutazione di quel rischio lì, il rischio della salute. È un po' perché si contagiano i più giovani, non ci sono ancora gli ospedali pieni, non ci sono ancora numeri che davvero ci facciano tornare al terrore che abbiamo vissuto in primavera. C'è ancora uno spazio maggiore in questa fase per la paura delle conseguenze che non per la causa. E quella viene poco politicizzata perché quella richiede delle risposte e quindi si contendono meno quella paura. È d'accordo, dottoressa Luini. Fare leva anche stavolta sulla grande paura può funzionare di nuovo o siamo tutti, per usare delle sue parole che ha detto prima, troppo stanchi, smarriti, un po' stremati? Sono molto d'accordo con quanto è stato detto e fare leva sulla paura non funziona. La paura è una componente importante del buonsenso e allora è buonsenso che si basa anche sulla paura e funziona. Ma quando è paura in sé, quando diventa veramente una grossa paura, porta a decisioni che sono decisioni emotive. Io amo molto le emozioni, ci lavoro, però non esistono solo le emozioni, esiste la razionalità, esiste un certo grado di consapevolezza. Quindi la paura non è mai un buon motore e tra l'altro, se ci pensiamo, negli argomenti che riguardano la salute, la prevenzione non fa mai leva sulla paura, fa leva sulla rassicurazione. Se fai questo puoi stare meglio, se fai questo non ti ammali oppure se ti ammali guarisci più in fretta. Non c'è mai stata una prevenzione comunicata efficacemente facendo leva su un grosso senso di paura. La paura va affrontata perché è importante, però non va enfatizzata in nessun caso. Sì, anche perché si trasforma rapidamente, può trasformarsi in panico e allora di sicuro le decisioni che si prendono sono quelle sbagliate. Pino Corrias, la prima ondata ha portato al governo Conte grandi consensi, l'ha portato al massimo dei consensi. La seconda potrebbe travolgerlo anche alla luce di queste considerazioni che stiamo facendo stasera? No, io sinceramente non lo credo. Credo che il governo, l'ha detto Conte qualche giorno fa, verranno giudicati su come verranno investiti i soldi del rilancio, il recovery fund e quant'altro, la ripresa economica. Per quello che riguarda la malattia, io sono molto d'accordo. La paura è un'arma politica che in questo momento in Italia stanno usando molto le opposizioni e gli autoritari in genere, che spesso coincidono con i negazionisti, con quelli che dicono che è un'influenza, diciamo il genere Trump, funzionano molto con i nemici che inventano loro, che immaginano loro, che propagandano loro. Con i pericoli e le questioni vere da affrontare, in genere gli autoritari non sanno poi come risolvere le questioni, per cui si trovano sempre spiazzati. Io penso che invece nella gestione di questa, che forse davvero è la seconda onnata, penso che il governo abbia accumulato abbastanza esperienza per gestirla. L'Italia oggi è al diciottesimo posto tra le nazioni infette, mentre dieci mesi fa era al secondo posto dopo la Cina. Noi siamo stati i primi nel mondo occidente, diciamo, in questa parte del mondo a essere colpiti dal virus e ci siamo inventati le reazioni che hanno funzionato bene. Credo che con l'esperienza fatta in questi dieci mesi, io credo che verrà affrontata in modo adeguato, anche perché naturalmente io non sono né un medico, però mi dicono che nessuno si aspetta una seconda ondata paragonabile alla prima e quindi poi c'è, diciamo, questa chimera del vaccino che un po' si allontana, un po' si avvicina, ma credo che quella sarà un po' la svolta di tutto. Ecco sì, diciamogli anche gli stessi esperti sono un po' divisi, anche perché ci sono troppi fattori che contano nel determinare un quadro più o meno grave del coronavirus. Mariana Aprile, ma nuove restrizioni sarebbero accolte bene o male dalla popolazione, secondo te? Ha ragione Corrias quando dice che il governo in realtà non rischia di essere troppo danneggiato da una seconda ondata? Io credo che le restrizioni sarebbero accolte esattamente come sono state accolte otto mesi fa, cioè con senso di responsabilità da parte degli italiani. Se domani, Dio non voglia, ci dovessero chiudere di nuovo in casa, staremmo chiusi in casa, come abbiamo fatto a marzo, con una differenza, che mentre a marzo eravamo tutti abbastanza consapevoli che quella fosse l'unica strada percorribile, perché era uno schiaffo che ci arrivava all'improvviso e senza nessun tipo di possibilità di prepararci a riceverlo e a contrastarlo, adesso ci sono stati otto mesi in mezzo in cui il governo e le regioni hanno avuto il tempo e le competenze acquisite sul campo e a carissimo presto per capire di cosa c'è bisogno. Io quindi credo che da una parte ci sarebbe l'accettazione di eventuali restrizioni, dall'altra però credo che stavolta, al contrario di quanto accaduto a marzo, ci sarebbe in qualche modo l'aspettativa di avere qualcosa in cambio e per qualcosa in cambio intendo tutto il resto, il tracciamento, i tamponi, l'assistenza domiciliare, i posti in terapia intensiva, i posti in ospedale, cioè io credo che stavolta sarebbe più condizionata l'accettazione dell'imposizione, non fosse altro perché adesso sappiamo quanto costa anche in termini di peso psicologico ed economico e finanziario sulla vita e sulle tasche di ciascuno di noi. È d'accordo Elisa Fuxas, saremmo disposti ad accettare nuove pesanti restrizioni se però in cambio tutto il resto funziona meglio? Ma personalmente io chiedo solo un po' di chiarezza nel messaggio che ci viene dato, comunicato e quindi se è un pericolo deve essere chiaro che è un pericolo e se non lo è capire come convivere con questo strano e misterioso virus che ci accompagna. Diciamo che rispetto al primo di lockdown, un eventuale secondo, penso che sempre io parlo solo di me, mi farebbe ancora più paura perché il primo era come essere di fronte alla storia, a qualcosa di incredibile, cioè la catastrofe di fronte a te. E quella cosa ha anche qualcosa di perversamente attraente. C'era una tragedia che però in qualche modo non smettevamo di guardare e osservare. Ora che sappiamo che significa i morti che ci sono stati e la difficoltà che ha generato e il clima in cui viviamo, penso che riviverlo sarebbe molto peggio che la prima volta. È così, dottoressa Luini? Sì, per molte persone è così, poi ovviamente dipende perché molti affermano di avere scoperto alcune cose importanti di se stessi durante il lockdown, quindi una seconda esperienza viene vissuta in un altro modo, però tendenzialmente sono d'accordo. In questo momento un nuovo eventuale lockdown sarebbe il secondo trauma che va a aggiungersi al primo, ma il primo aveva le caratteristiche che sono appena state dette, questo secondo è veramente il secondo trauma che si aggiunge e non è detto comunque che chi ha vissuto relativamente bene il primo lockdown viva bene il secondo, perché un secondo trauma non è mai vissuto nello stesso modo, non possiamo aspettarci di essere ancora sereni se la prima volta lo siamo stati, non funziona così purtroppo. Senta, dottoressa Luini, i dati recenti della società italiana di psichiatria ci dicono che i casi di depressione sono quintuplicati, quindi rischiamo molto con... Adesso noi lo chiamiamo un eventuale nuovo lockdown, comunque anche non fosse un lockdown, fosse l'istituzione di zone rosse o comunque nuove pesanti restrizioni, ecco cosa rischiamo? In realtà sta già accadendo, perché queste informazioni che in qualche modo salpellano qua e là e portano però anche numericamente alcuni dati che fanno pensare a un aumento dei contagi, stanno già agendo sulla psiche, sull'emotività, sulle emozioni. Cosa succede? Credo che non potrà migliorare a breve questa situazione di depressione e di stato di ansia anche che riguarda più persone in modo più profondo, per questo credo sia importante fornire supporti adeguati. In questo momento c'è molto bisogno perché ogni volta che si vive un cambiamento peraltro traumatico e ogni volta che questo cambiamento non ha indicazioni chiare, si crea davvero un profondissimo disagio psichico. E abbiamo gli anticorpi contro la depressione, la paura, quali sono gli anticorpi, tra virgolette? Sì, sì, ce li abbiamo sempre, tutti ce li hanno. Il primo anticorpo è pensare a adesso. In questo momento noi stiamo ragionando di possibilità prossime e future e legate al passato. In questo momento non stiamo pensando a come stiamo adesso, che è del tutto rilevante perché il presente non è solo rischio, paura, malattia, prevenzione da fare. Il presente è vita che c'è qui ed è un pensiero che dovrebbe aiutarci a vedere che comunque non esiste solo il rischio di malattia, non esiste solo la paura. In questo momento, in qualsiasi condizione, siamo qui e siamo vivi e possiamo costruire un presente relativamente buono. Questo sta a noi. L'altro anticorpo è la consapevolezza. Cioè, che cosa penso io davvero rispetto alle notizie che sento? Soprattutto rispetto alle emotività che si contrastano. Cosa penso io sul serio quando qualcuno mi prende in giro perché ho la mascherina e qualcun altro invece mi invita a tenerla ancora più stretta sul volto? La consapevolezza è prendere la decisione di informarsi e poi di usare quelle informazioni per il vivere quotidiano senza lasciarsi travolgere perché è del tutto inutile. Cosa penso io? Cosa voglio io? Non la persona che urla più forte. Più facile dirlo che farlo, no? Elisa Fuxas. Tra l'altro, a proposito di anticorpi, lei è stata aiutata molto dalla fede, no? Perché si è convertita al cattolicesimo non tanto tempo fa. E quindi in questa situazione così anche drammatica l'ha aiutata? Diciamo che le coincidenze sono abbastanza strane. Io non credo nelle coincidenze, ma questa volta la vita mi smentisce perché mi hanno detto che avevo un cancro il mercoledì delle ceneri e mi hanno operato di cancro lo stesso giorno in cui io mi sono battezzata l'anno prima. che figurati è una casualità, ma fino a un certo punto. In realtà credere, pensavo fosse un antidoto alla paura, quella più classica, semplice, banale, non c'è niente di male a esserlo in fondo, che è morire. Io penso di aver scelto di credere nel cristianesimo proprio perché si basa sulla Pasqua, che è l'opposto, cioè rinascere. Diciamo che in assoluto mi ha aiutato, ma mi ha aiutato nel dubbio, nel senso che per me non è né una consolazione, né una salvezza, né un'ipotesi di salvezza, ma è un tentativo di trovare una convenienza diversa nello stare al mondo. Il libro e il film finiscono allo stesso modo in cui io continuo a dire che nonostante tutto, nonostante il mio primo anno da credente sia stata una catastrofe perché mi è successo di tutto. Continuo a credere, continuo a non pensare che è Dio che ti mette alla prova, ma sei tu che hai bisogno di test perché sono razionale, quindi metto tutto al baglio. E poi continuo a avere anche paura, ovviamente, però un po' di meno. E in quello un po' di meno io trovo la convenienza di questa storia, diciamo. Che viene raccontata nel tuo nuovo libro, molto bene, ama e fai quello che vuoi, pubblicato da Marsiglio. Adesso poi ci torniamo. Pino Corrias, tu sei anche uno scrittore, sei anche una persona laica, non credente, no? Mi pare. Sì, no, no, no. Quindi, diciamo, per te... Che penso di queste cose? Stiamo andando molto alti, diciamo, nelle riflessioni. Stiamo andando molto alti, volevo andare con te a toccare una dimensione più, diciamo, meno alta e parlarti di Salvini, però intanto volevo interpellarti invece su questo aspetto più alto. No, per carità, sono, diciamo, la religione per come la vedo io, ma naturalmente rispettando tutte le opinioni e i credo, è una consolazione da sempre, diciamo, l'idea che noi siamo inseriti in un grande disegno anziché essere così soli e persi nell'universo di fronte agli interrogativi dell'esistenza. La paura e l'incertezza di questi mesi del virus, cioè la morte che diventa affare una faccenda quotidiana, è evidente che ci stordisce, perché noi viviamo in un mondo che abbiamo costruito secolo dopo secolo di grandi rassicurazioni. L'insorgenza, cioè l'arrivo, l'irruzione, invece di questa cosa che non conoscevamo, che non ci aspettavamo, che sono poi le pestilenze, diciamo, di tutta la storia umana. Tutto questo ha scardinato. Però io ho anche notato in questi dieci mesi un forte senso di comunità che mi ha persino stupito, non solo per quelle cose che venivano allestite come cerimonie collettive nei telegiornali, degli applausi dei caseggiati che cantano, ma l'ho sentito proprio nelle telefonate, nella vicinanza con gli amici, con le persone care e anche con gli sconosciuti, perché poi, appunto, la paura ti fa tremare ma ti fa anche organizzare delle difese e tutte e due le cose sono successe. E fino a questo momento ne siamo usciti, secondo me, molto bene, diciamo. Al di là di, poi tu introducevi addirittura, la figura di Salvini. Secondo me Salvini, la destra, sta agitando fantasmi, ma lo sta facendo per ragioni politiche ed è questa la cosa un po' miserevole di tutti questi allarmi che vengono continuamente reiterati. Però questa è l'accusa che fa Salvini al governo, scusa, Pino, è l'accusa che muove Salvini al governo questa, in realtà, no? di strumentalizzare la pandemia. No, nel senso che loro... Guarda, se tu sfogli i giornali, io sono abbastanza sorpreso da come si è comportata un po' la stampa, vedi che ci sono allarmi continui che non si realizzano, non ci sono le mascherine, non avremo mai le mascherine, la scuola non riaprirà mai, i banchi arriveranno, anzi no, non arriveranno neanche con le ruote. Io ho letto degli editoriali in cui i giornali autorevolissimi dicevano che a settembre in Italia ci sarebbe stato l'inferno. Ora, queste cose le sta agitando un po' per ragioni politiche, le sta agitando la destra. Io non vivo come allarmi politicamente interessati a un vantaggio politico quelli del governo. Semplicemente ci sono gli epidemiologi, i comitati scientifici e quant'altro che ti dicono che dobbiamo mantenere e avere delle cautele e queste cautele vanno interpretate, vanno fatte con una certa disciplina. Tutto qua. Gli allarmi invece, gli allarmi dell'imminente catastrofe, quello fa parte della propaganda politica che si sovrappone invece alla realtà anche drammatica, però vera, reale, che stiamo vivendo e che stiamo affrontando. Che stiamo affrontando abbastanza bene, Marianne Aprile. Tu hai criticato la comunicazione, soprattutto la comunicazione di Conte, durante la prima ondata e l'hai definita troppo paternalistica. La vedi cambiata? La vedo arricchita, nel senso che continuo a riconoscere un certo paternalismo, per esempio in questo enfatizzare la responsabilità dei cittadini, le mascherine, gli assembramenti da evitare, tutto quello che è sacrosanto fare o non fare, a seconda della prescrizione. Però la sensazione che avevo allora e che continuo ad avere è che spesso questa enfatizzazione del ruolo del cittadino e della sua responsabilità tenda a coprire alcune tacche evidenti di inefficienza nell'azione delle regioni, del governo, nella gestione di tutto quello che c'è da fare. Mariana, scusami se ti interrompo, ma ha ragione Elisa Fuxas quando dice che sarebbe gradita una comunicazione da parte del governo più chiara? Credo di sì, nel senso che noi siamo passati dalla sensazione che ci fosse una rimozione collettiva anche da parte della politica del problema. Quest'estate, e non mi riferisco solo alle discoteche, che sono state un incidente sgradevole, molto dannoso, ma ci può stare. Però proprio nella comunicazione c'era un rilassamento generale che ha fatto passare il messaggio che tutto sommato è il peggio forse alle spalle. La sensazione che si ha adesso che i numeri hanno ricominciato a crescere e hanno una tendenza che preoccupa non me, ma gli esperti, è che si sia rilassata anche la politica in quei mesi. Perché se arriviamo all'8 ottobre a bandire una gara per 5 milioni di test rapidi da distribuire ai medici di medicina generale per evitare che i presunti contagiati arrivino negli ospedali e quindi si replichi l'errore che si è verificato a marzo con gli ospedali come cluster, se arriviamo all'8 ottobre a bandire questa gara vuol dire che il rilassamento generale c'è stato e quella comunicazione poco chiara sul pericolo che continuavamo a vivere e continueremo a vivere è stata tradotta anche in politiche poco chiare e forse poco efficaci. E qua che intendo diciamo di quel tono paternalistico che continuo a intravedere stride un po' con una certa rilassatezza che si è registrata in questi ultimi mesi in cui ci siamo concentrati tantissimo su poche cose ma mi sembra che si sia persa di vista la strategia tant'è vero che si fanno 8 ore di fila per i tamponi non ci sono abbastanza tamponi per fare il tracciamento che si era promesso di fare il piano che il professor Cresanti aveva presentato quest'estate non ha avuto alcun seguito ora per carità non è questo obbligatorio però non c'è una spiegazione per cui non è stato seguito era anche diciamo aveva dei costi piuttosto contenuti non si capisce perché mancano i tamponi ma il messo non si chiede e quindi non ci sono i soldi e questo sarebbe un altro capitolo ancora da affrontare è una cosa che chiarisce poco anche nella comunicazione da messaggi discordanti Elisa Fuchs lei ha raccontato prima pubblicato da poco questo libro Ama e fai quello che vuoi pubblicato da Marsilio che è in realtà un romanzo ma è totalmente autobiografico perché racconta della sua conversione è un libro molto bello scritto molto bene anche molto ironico che in qualche modo credenti e non credenti ci interpella che cosa la spinta a raccontare questa esperienza mettendo anche a nudo tante cose personali difetti, idiosincrasie, assurdità, follie, nevrosi eccetera eccetera tutte diciamo invece di andare in analisi io ho iniziato a credere in Dio ecco è un percorso molto simile per certi versi e poi diciamo che inizia il libro come un film di Woody Allen in cui perché io mi sono avvicinata alla fede tradendo per cui niente di sacro e niente di santo e infatti c'è molta ironia come diceva lei tradendo il suo compagno sì, dell'epoca perché l'ironia poi è l'unico modo che ho trovato per diciamo trovare un equilibrio tra l'assurdità delle cose del bene e del male io metto questa specie di coefficiente che mi rende tutto più tollerabile però non ho ancora capito se uno scrive per vivere o viceversa o vive per scrivere perché a un certo punto io mi sono ritrovata a credere e era l'avventura più grande che mi è capitata in vita mia e le persone che ho incontrato sono state dei grandi personaggi proprio di storia di narrazione non solo per me che non ho resistito al raccontato Allora devo interpellare rapidissimamente tutti gli altri miei ospiti ricomincio dalla dottoressa Luini lei scrive per vivere oppure il contrario com'è per lei la questione? Non ne ho la minima idea quindi va bene tutto E per te Pino Corrias? Beh io penso che prima si vive e si scrive sono due cose che si fanno contemporaneamente non è che c'è la prevalenza romantica dell'atto creativo rispetto al vivere quotidiano Detto questo credo che la giovane Fuxas ha elencato un sacco di suoi difetti ma credo che abbia anche tante virtù e tante qualità questa ragazza o no? Questa ragazza Sì Perché abbiamo parlato solo di idiosincrasia questa signorina Beh se leggete il libro e fai quello che vuoi ne scoprirete tante di qualità No Tu perché scrivi Mariana Prima? Lo faremo Lo faremo Per non vivere Sono quello ormai quindi non riesco a fare nient'altro Va bene Allora a questo punto ci vuole proprio il punto di Paolo Pagliaro Siamo avvantaggiati Perché anche perché abbiamo parlato di possibile brutta seconda ondata e quindi mai come ora ci sarebbe bisogno di sostenere la ricerca scientifica Sentiamo il punto Da sempre l'Italia investe nella ricerca di base la metà di ciò che spendono Francia o Germania Su mille posti di lavoro quelli dedicati a progetti di ricerca e sviluppo sono 5,6 in Italia e 10,9 in Francia In percentuale sul PIL spende quattro volte più di noi la Corea del Sud che non a caso è risultato il paese meglio preparato ad affrontare la pandemia di coronavirus Cita questi dati il fisico Ugo Amaldi che in un volume sul post-covid pubblicato dal Cortile dei Gentili chiede al governo di raddoppiare nei prossimi sei anni il budget per la ricerca in modo da raggiungere nel 2026 una spesa pari all'1,1% del PIL partendo dall'attuale 0,50 Per centrare questo obiettivo lo Stato a cui spetta il finanziamento della ricerca di base dovrebbe aggiungere al bilancio dell'anno prossimo un miliardo e mezzo di euro e poi aumentare l'investimento in ricerca del 14% all'anno per cinque anni Così tra tre anni il rapporto tra le spese in ricerca e il PIL sarà quasi uguale in Italia a quello della Francia La proposta di Amaldi è diventata una petizione che su Change.org ha già raccolto 15.000 firme Il raddoppio degli investimenti in ricerca da destinare a borse di dottorato progetti infrastrutture e trasferimento tecnologico avrebbe anche il vantaggio per il governo di venire incontro a un sempre più diffuso umore popolare L'indice di fiducia di cui godono gli scienziati è infatti dell'82% contro il 4% dei giornalisti e il 3% dei politici Allora siamo in chiusura grazie dottoressa Gatti Luini grazie Mariana Aprile grazie Pino Corrias grazie Elisa Fuxas ricordo il suo nuovo libro Ama e fai quello che vuoi pubblicato da Marsiglio grazie spettatrici spettatori e noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo arrivederci grazie grazie